...particolari, io li ho chiamati i siti misteriosi, che possono essere delle grotte, dei rifugi come questo, delle sorgenti, dei sassi, dei rocce particolari, che si è a Priya dell'Orco e a Senia, zona del piccolo Malte, che si è un ristorante dei Colli Ugani verso Toreglia. Allora, questa, la tanna dei costi, non è altro che un riparo, un rifugio, dove che anticamente i pastori che pascoavano a Piegole, gli avevano la possibilità di rifugiarsi. Se guarda, osservai qua che c'è anche il cammino, perché gli si impissava il fogo dentro e il fumo veniva fuori da qua e anche c'è anche il posto di sedersi, vedete, e qui mangiavano e si riparavano, per esempio, quando c'era maltempo che pioveva, o faceva freddo, e si impissava anche il fogo. C'è la tanna dei costi, lui c'è tanti che conosce queste roba qua, il fogo, venite, e qui ci senti, vedete, e qui ci senti, vedete, 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 vedete. Sì 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 Grazie a tutti.